Evidentemente un incremento significativo dei costi dell'energia comporta per noi un aggravio straordinario sul conto economico. Noi dobbiamo tenere accese 22.000 antenne in giro per il Paese per garantire la copertura del 99,8% della popolazione, perché questa è la copertura che garantiamo oggi. Noi come industria non abbiamo mai chiesto di pesare sulle casse pubbliche. Quello che però chiediamo oggi anche in continuità con quanto è stato fatto quest'anno è di intervenire per esempio sugli oneri di sistema, perché quella è una forma di tassazione indiretta che ha contribuito negli anni a sostenere la trasformazione del sistema elettrico italiano e oggi francamente è un peso che noi non siamo più in grado di reggere. In fondo però quello che ci aspettiamo dal nuovo governo e dal nuovo Parlamento è finalmente una politica industriale che in questo settore manca da vent'anni e credo che c'è il rischio che tutto il Paese ne faccia le spese. Ricordiamoci che l'Italia è la quinta potenza economica per export nel mondo, ma le nostre aziende per competere con i concorrenti a livello globale hanno bisogno di infrastrutture abilitanti e sicuramente le telecomunicazioni lo sono. Se ci troveremo nel 2023, come è stato detto da amministratori delegati di più aziende, e purtroppo gli investimenti nel 5G saranno rallentati. Non c'è più spazio per fare investimenti quando i margini sono così bassi che non riescono più a remunerare il capitale investito.